A poche decine di metri dalla variante che porta da Pescara a Montesilvano imbocchiamo via Selva degli Abeti, una stradina stretta e dissestata di colle innamorati. L'occasione offerta dal Carriola Day, un'iniziativa giunta alla sua seconda edizione di un piccolo gruppo di residenti con a capo una mascotte, Lola, intento a ripulire i percorsi dalla spazzatura gettata da chi utilizza le vie come discarica abusiva a cielo aperto. E troviamo di tutto dal vecchio frigorifero al divano fino ad arrivare all'Eternit, stessa situazione nella piccola arteria di via Valle Fuzzini. Si apre i finestrini e getta i rifiuti, nonostante noi siamo muniti di contenitori appositi, perché l'amministrazione comunale si è data molto da fare in questo, e si libera dei rifiuti e anche altri tipi di rifiuti, non soltanto la spazzatura quella di casa. Il Carriola Day può essere anche l'occasione per lanciare un appello, lei di professione fa il medico, oggi è sabato, si rimbocca le maniche e viene qui a pulire le strade di Pescara. Sì, ha maggior ragione per il mio lavoro, perché io sinceramente non riesco a vivere in un ambiente tale, quindi sono venuta qui proprio perché volevo godere la natura, i frutti della natura, non i frutti delle discariche. E quindi sì, lo faccio volentieri insieme alla mia famiglia e a tutti i vicini, perché abbiamo trovato un vicinato propenso come noi a darsi da fare in questo senso. E la stessa situazione la ritroviamo nella piccola arteria di via Valle Fuzzina. Riciclare il rifiuto correttamente significa avere una risorsa, pagare meno tasse e rendere la città più bella. Ambiente partecipa alla raccolta organizzata dei cittadini, ma guardiamo al futuro. Ambiente Spa è ovviamente in prima linea a fianco a questi cittadini virtuosi che oggi davvero ci manifestano con il loro fare che il rifiuto è una risorsa, ma l'amministrazione ovviamente deve collaborare in modo concreto e quindi noi chiederemo all'amministrazione di mettere anche delle telecamere in queste zone che sono delle zone fulcro dove accadono questi episodi di grave inciviltà.